Signori, Profumo di Donna, recensione richiesta da Francesco Tria. Il film originale, non questo che secondo me è comunque bellissimo. Al momento lo trovate gratis su Team Vision e su RaiPlay. È stupendo, voto 9. È parecchio diverso dal remake o reboot che sia di Al Pacino, ma comunque bello, bello, bello. C'è addirittura, piccolo particolare, il piccolo maniaco dei film anni 70-80 che fa Pierino, se non mi viene in mente, che fa il cameriere serio. Veramente particolarissimo questo film, consigliato, voto 9, mi ripeto. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace. Ciao ciao!